Ti sembra di trovarti con una certa frequenza in situazioni in cui sei in disaccordo con altri? Ti capita di essere in difficoltà rispetto al come affrontare alcune situazioni di disaccordo più o meno forte con i colleghi, col dirigente, magari anche in famiglia, magari anche con gli studenti. L'obiettivo di questo corso è quello di fornire alcuni strumenti per riflettere in modo da prendere un pochino le distanze emotive da queste situazioni applicando alcune teorie che riprendiamo dalla psicologia sociale da un lato, che riprendiamo dall'analisi transazionale dall'altro. L'obiettivo è che alla fine del corso tu possa avere più chiaro quali sono i meccanismi interni che favoriscono in qualche modo il tuo ritrovarti sempre in una situazione complicata poi da gestire, offrendo anche degli strumenti operativi per uscirne. Il tema è il conflitto relazionale, visto da diverse sfaccettature.